La compagnia teatrale Gli Sbandati il prossimo 9 novembre terrà un evento importante e lo terrà nella chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato a Piazza Garibaldi. Sì, è uno spettacolo dedicato alla commedia di Dante, il titolo è significativo perché si chiama Dalla selva oscura all'indiarsi, cioè il viaggio di un io smarrito perché fondamentalmente nella vita tutti a volte ci perdiamo e attraverso il viaggio, attraverso le esperienze possiamo ritrovarci. Quindi è un viaggio che Dante fa, sono tutte le canti che verranno messe in scena dall'Inferno al Purgatorio al Paradiso, ovviamente canti scelti e la chiesa sarà il nostro spazio scenico. La rappresentazione si svolgerà proprio in maniera itinerante, quindi dall'ingresso della chiesa che rappresenta e simboleggia l'Inferno per poi salire a metà della navata dove c'è il Purgatorio e per finire all'altare che ovviamente rappresenta il Paradiso dove Dante ci descrive attraverso le sue parole magnifiche quello che è l'esperienza di conoscere Dio. La parrocchia del cuore immagolato di Maria Piazza Garibaldi ospiterà il prossimo 9 novembre un evento importante in ricordo anche del professor Casadio. Sì, in occasione della visita pastorale del Vescovo è inserito questo evento culturale di fede di Dante. Ecco, Dante ci ricorda che cosa significa salvarsi, diventare come Dio, indiarsi. E lo faremo proprio in ricordo del professor Casadio, un uomo buono, un uomo mite, un grande studioso e soprattutto un cristiano.